Questa la dedico a mia mamma, che non è potuta venire qua perché da un anno lei e mio padre stanno lottando per un problema che abbiamo a casa. La dedico a tutte le donne come me, ai bambini meno fortunati, ai bambini disabili, perché io amo i bambini, perché il mio sogno è quello di chiedermi una famiglia e diventare mamma. Ancora ci devo credere, non me ne aspettavo. Io faccio i miei auguri alla nuova Miss Sara Baudici, una cara amica, e che dire, che tu possa elogiare questa corona nei migliori di modi e fare un anno pieno di soddisfazione e ricco di emozioni. Un bacio amore. Ragazze, ho bisogno di voi, a tutti quanti all'appello, grazie. Ragazze, ho bisogno di voi. Merda, 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 merda! A presto A presto A presto